Hai nota piccola attività o un sogno nel cassetto da realizzare? Ora con Il Cibo si può, grazie alla nuova community di crowdfunding EatMeet. Attraverso il tuo profilo puoi organizzare il tuo evento EatMeet, dove gli altri utenti della community possono partecipare. L'incontro e il cibo ti daranno l'opportunità di farti conoscere e dar vita al tuo progetto, grazie al sostegno della comunità web. Fai assaporare il tuo progetto con EatMeet. Grazie a tutti.